Abbiamo firmato oggi, dopo una trattativa molto lunga e faticosa, però abbiamo trovato una soluzione che per quanto riguarda la procedura massimizza l'interesse per i creditori e al contempo dà salvezza all'azienda e speranza di prosecuzione. Quali sono i termini di questo accordo? Praticamente da domani l'azienda Food Italia verrà riconsegnata da GG SRL alla procedura di CIA. La procedura attiverà immediatamente gli ammortizzatori sociali, consistenti in una cassa integrazione straordinaria per cessazione dei dipendenti. La procedura ha fatto tutto questo a condizione che GG si assumesse l'impegno di indennizzare la procedura di ogni costo relativo. In più riconoscerà un contributo alla reindustrializzazione all'acquirente che tutti quanti auspichiamo si presenterà alla vendita competitiva che idealmente si dovrebbe trenere fra la fine di aprile e i primi di maggio.